sarà capitato anche a voi di fuggire dal vostro signore ricordate l'antico profeta giona venne inviato a ninive la grande città perché venisse convertita dalle sue tante iniquità salite fino al cielo ma giona fuggì dalla parte opposta e si imbarcò al porto di giaffa per andare a tarsis lontano dal signore simone giovedì uscirà al cinema masiezi la sua opera prima gione la balena il ritorno del signore quando è nato questo progetto e qual è la trama il progetto è nato tanti anni fa legato a questo personaggio del profeta antico di questo giona però si è sviluppato e ha preso corpo durante il covid un periodo molto drammatico che abbiamo vissuto tutti e lì ho accostato questo profeta come fosse lui l'anticipatore praticamente di un annuncio sorprendente quanto sconvolgente che il signore torna per regnare e la trama è praticamente abbiamo ripreso questo profeta antico e lo rivediamo in un'epoca moderna come fosse praticamente il risveglio di una coscienza di un uomo della nostra epoca che nel qual caso si chiama giona che è chiamato il signore a rivivere la storia dell'antico profeta però con una finalità nuova il signore stesso gli dirà bene ora tu dovrai annunciare che io ritorno nella gloria per regnare questa è diciamo la trama essenziale chiaramente questo avrà lo porterà ad avere grandi contrasti perché il cosiddetto potere oscuro come io lo chiamo farà di tutto per impedire non solo a giona ma anche gli altri portavoce che vogliono appunto annunciare questo ritorno del signore nella gloria per regnare si verificheranno varie problematiche perché in questa mia opera ho voluto mettere che il potere oscuro sta preparando l'avvento dell'anticristo quindi deve eliminare tutti quei portavoce che invece ci portano una speranza forte che appunto il signore c'è e ritornerà nella gloria per regnare quanto dura questo film e dove è stato girato allora questo film è un è un corto diciamo un cortometraggio anche se ha praticamente una una valenza e una struttura che assomiglia più al film in quanto in quanto anche le stesse riprese sono girate a livello cinematografico tra virgolette quindi il tentativo è questo un piccolo film appunto l'ho chiamato e l'abbiamo girato in quel di mondolfo nella zona dove abbiamo il santuario della madonna delle grotte quindi cosiddetti tuffi di mondolfo poi siamo scesi al mare siamo scesi nella località cosiddetta cesanella e dove abbiamo praticamente eseguito delle riprese appunto legate al mare voglio ringraziare essenzialmente il mio collaboratore che mi ha permesso di poter realizzare questa opera prima questo lavoro che è lo scultore tra l'altro suolta è scultore e quindi un artista Dario Battistoni e questo questo corto questo piccolo film lo chiamiamo così voglio desidero che voi tutti veniate a vederlo lo proiettiamo giovedì 9 maggio alle ore 21 al cinema Masetti invito tutti quanti anche gli stessi diciamo artisti possono essere anche i registi che ne abbiamo tanti a livello locale oppure stessi attori perché ci piacerà poi fare un confronto un dibattito finale appunto su questo messaggio su questo film